Chi è la ragazza repubblicana? Il volto simbolo del referendum del 1946, quello che spunta da una pagina bucata del Corriere della Sera, era forse una giovane partigiana, una passante o una modella? È il 15 giugno del 1946 e sulla copertina del settimanale Tempo campeggia il volto di una 24-annia milanese, Anna Iberti. La foto, come altre dello stesso servizio, sono state scattate dal noto fotoreporter di guerra Federico Patellani, che era anche autore dell'immagine simbolo della monarchia in quel referendum decisivo. Anna Iberti era una semplice impiegata nell'amministrazione del quotidiano socialista avanti e in quell'occasione il tetto della sede milanese ne diventa il set improvvisato. L'immagine venne ripresa e resa nota soprattutto negli anni 70 durante alcune manifestazioni e tutt'oggi è l'icona di un periodo fondamentale della nostra storia. Anna morì nel 1997.